Anticipazioni Terra Amara sabato 23 dicembre. Benvenuti nel cuore pulsante di Terra Amara, dove ogni episodio è un viaggio attraverso intrighi e passioni inaspettate. Questo sabato 23 dicembre, preparatevi a essere catturati da una nuova avventura che promette di tenervi con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. In un angolo dimenticato di Mersin, un magazzino abbandonato diventa il teatro di un incontro decisivo. Abdul Qadir, il collega di Akan, si trova circondato da uomini tesi e preoccupati. L'aria è carica di ansia mentre Ismail, con voce tremante, rivela il successo dell'attacco alla villa di Demir, ma ha un costo terribile. La notizia di feriti e il coinvolgimento di una bambina innocente scatenano l'ira di Qadir. La tensione è palpabile mentre promette che Akan non perdonerà mai un atto così vile. E mentre Ismail viene rinchiuso, attendendo il destino della bambina, ci chiediamo, qual è il prezzo della vendetta in terra amara? Ma le notizie non finiscono qui. Qadir riceve una chiamata da Akan, lontano in Iran, ignaro della tragedia che si sta svolgendo. La morte di Erkana Chukurova getta un'ombra ancora più oscura su questi eventi già carichi di tensione. E mentre Fikret e i suoi uomini cercano disperatamente di trovare Demir, una teoria sconvolgente emerge, potrebbe essere stato Demir stesso a organizzare l'attacco per fuggire? O c'è altro, un nemico nascosto nell'ombra, che tira le fila di questo pericoloso gioco? Nel cuore pulsante della procura, Zuleya emerge da un estenuante interrogatorio. Betul, con un misto di ansia e cura, le si avvicina, sussurrando la speranza che Demir sia ancora vivo. Fikret si unisce a loro, e Zuleya, con gli occhi lucidi di disperazione, rivela che il pubblico ministero è convinto della fuga di Demir e che lei dovrebbe raggiungerlo con i bambini. Fikret, con parole di conforto, cerca di infondere coraggio, promettendo che stanno cercando gli assalitori per scoprire la verità su Demir. Nel cuore pulsante dell'unità di terapia intensiva, dove la tensione è palpabile, Uzzum combatte una battaglia critica tra la vita e la morte. Sanye, con gli occhi incollati al vetro che la separa dalla sua amata figlia, fa un voto straziante a Gaffur, rifiuterà ogni boccone finché la sicurezza di Uzzum non sarà garantita. Kumali, condividendo lo stesso spazio carico di preoccupazione, manifesta il suo tormento per la condizione della figlia. In questo clima di disperazione, Zuleya, accompagnata da Fikret e Betul, fa il suo ingresso. Sanye, travolta dall'emozione, si precipita verso di lei, e in un abbraccio disperato, le due donne condividono il loro dolore. Zuleya, con una voce che trema ma non si spezza, rassicura tutti sulla forza di Uzzum, mentre Sanye, tra i singhiozzi, aggiunge che le loro preghiere si estenderanno anche a Demir. Betul, con un misto di curiosità e apprensione, interroga Fikret sul nemico menzionato da Zuleya. Fikret, con un tono grave e riflessivo, conferma che il loro antagonista non è altri che Akan Gumuzoglu, un tempo alleato di Demir negli affari, ma poi trasformatosi nel suo più feroce avversario, distruggendo la loro impresa comune e addossando la colpa a Demir. Betul, con un lampo di ricordo, riflette su di lui, ma rimane perplessa sul perché abbia atteso tanto tempo per colpire. La sera avvolge la villa in un manto di quiete apparente quando Zuleya, Fikret e Betul fanno ritorno. Zuleya, con un filo di speranza, tranquillizza tutti sullo stato di Uzzum. Poi, con un cuore appesantito, si dirige verso i bambini e li trova con Aminè, che con dolcezza e dedizione le assicura che non li lascerà mai soli. Zuleya, con gli occhi lucidi di lacrime, confida la loro solitudine in assenza di Demir. Aminè, con un abbraccio che è una promessa, la rassicura. Demir tornerà, perché non abbandona mai la sua famiglia. Più tardi, in un momento di calma, Zuleya condivide con Fikret i suoi dubbi e paure. Perché Akan ha scelto proprio ora per agire contro di loro? Lutfi, con un'intuizione improvvisa, suggerisce che il misterioso acquirente delle azioni potrebbe essere proprio Akan. Fikret e Zuleya ponderano questa possibilità, mentre Betul, sorpresa e leggermente irritata per non essere stata informata della vendita, rimane in silenzio, ascoltando. Fikret, con un'espressione carica di preoccupazione, si interroga sul perché Demir non abbia anticipato questa mossa. Lutfi, con uno sguardo pensieroso, propone che forse Demir stava cercando un nemico più vicino, forse troppo vicino per discernere la verità. Ritornata nel suo rifugio familiare, Betul affronta Shermin con una domanda che brucia. Era al corrente della vendita del 25% delle azioni? Shermin, con un cenno affermativo, scatena l'indignazione di Betul, non solo per essere stata tenuta all'oscuro, ma anche per la diminuzione della loro quota di proprietà, che si ridurrà ulteriormente con la nascita del bambino di Umit. Ma Shermin, con un sorriso che cela più di quanto riveli, svela una verità sconcertante. Umit non è incinta. Betul, sorpresa e sconcertata, ascolta mentre Shermin descrive Umit come una donna disperata, pronta a tutto pur di ottenere una parte delle ricchezze degli Yaman. Betul, con una risolutezza gelida, si impegna a occuparsi personalmente di Umit, ma non può nascondere il suo disappunto per la perdita del 25% delle azioni. Shermin avverte, ottenere il controllo totale non sarà semplice, soprattutto con Zuley a vigilare. Betul, tuttavia, minimizza Zuley a come una semplice ragazza povera e ignorante di Istanbul. La sua vera preoccupazione è chi ha acquistato quelle azioni. Shermin, scrutando l'ambizione nei suoi occhi, chiede a Betul se desidera davvero conquistare l'intera azienda. Betul, con una determinazione inossidabile, giura che non lascerà neanche un centesimo agli Yaman. Fekeli si trova dietro le sbarre, ma non è un prigioniero comune. Viene informato degli attacchi devastanti alla villa e, con una determinazione feroce, decide di affrontare il procuratore. Con una mossa audace, chiede due giorni di libertà per risolvere la situazione, promettendo di tornare. Il procuratore, riconoscendo l'onore in Fekeli, accetta, ma pone una condizione cruciale, se incrocia Demir, deve convincerlo a consegnarsi. Questo patto segna l'inizio di una missione carica di tensione e incertezza. Nel frattempo, alla villa, il malcontento serpeggia tra le mura. Shermin, con un'espressione tesa, esprime a Betul il suo disappunto. Fikret, con i suoi uomini, ha trasformato la villa in una fortezza, assumendo un ruolo che non le appartiene. Shermin teme che, essendo stato riconosciuto da Demir, Fikret possa reclamare una parte delle ricchezze degli Yaman. Betul, con un disprezzo appena velato, cerca di placare le preoccupazioni di Shermin, ma sotto la superficie si nasconde una preoccupazione più profonda. Shermin ha notato l'interesse di Fikret per qualcosa, o qualcuno, all'interno della villa. In questo clima di incertezza, Fekeli arriva giusto in tempo, portando un barlume di speranza. Zuleya, con un sospiro di sollievo, lo accoglie con gratitudine, ringraziandolo per il suo supporto in un momento così buio. Fekeli, con una calma rassicurante, promette che troveranno Demir al più presto. L'interazione tra Fekeli e Fikret rivela la complessità della loro situazione. Fekeli ha ottenuto un permesso speciale dal procuratore, consapevole della gravità della situazione. Nel corridoio dell'ospedale, il dolore e la speranza si intrecciano in un abbraccio struggente. Sani e Ghaffur, uniti nel loro dolore, condividono un momento di intima consolazione, promettendosi a vicenda che Uzun si sveglierà. La loro determinazione è un faro di speranza in un mare di disperazione. Nel silenzio della macchina, Lutfi condivide con Fekeli i suoi timori più profondi, il terrore che Demir possa essere fuggito o, peggio ancora, ucciso. Fekeli, con una fermezza che cela la sua preoccupazione, cerca di rassicurarla, ma il peso dell'incertezza è palpabile. Lutfi, con il cuore pesante, si impegna a non lasciare sola Zuleia, soprattutto con Schermin così vicina. Il giorno seguente, il cimitero diventa il palcoscenico di un confronto carico di tensione. Kadir, di fronte alla tomba del fratello di Akan, è costretto a navigare tra verità e menzogne. Quando Akan arriva, la tensione raggiunge il culmine. Akan, con una determinazione feroce, giura di scoprire l'assassino e vendicarsi. Kadir, intrappolato nella sua rete di inganni, cerca di districarsi, ma Akan non è un uomo da ingannare facilmente. Dichiarando che pianificherà con cura la loro distruzione, Akan segna l'inizio di una battaglia che promette di essere tanto tesa quanto carica di suspense. Nell'ospedale, il tempo sembra essersi fermato. Sanye e Gaffur, troppo angosciati per pensare anche solo a mangiare, vegliano su Uzum. Ma quando Sanye vede Kumali, tranquillo e distaccato, la sua rabbia esplode. Con un gesto di furore, strappa la tovaglia dal tavolo, facendo cadere tutto per terra e inizia a inveire contro di lui. Kumali, colto di sorpresa, ne approfitta per scappare, lasciando Sanye sola con il suo dolore. Nel frattempo, Fechili chiama la villa, informando Lutfi che non dovrà tornare in prigione dopo l'udienza. Chiede di Zuleia, e Lutfi, con un filo di preoccupazione, ammette che sta male. Poi, raggiunge Zuleia, trovandola in lacrime. Con grande empatia, Lutfi la consola, incoraggiandola a essere forte per i suoi figli e rassicurandola che Demir tornerà. Zuleia, tra i singhiozzi, esprime il suo desiderio disperato che Demir sia vivo, anche se sa nel suo cuore che non li avrebbe mai abbandonati. Nel giardino, Shermin, Betul e alcune amiche si godono il tè in un'atmosfera apparentemente tranquilla. Lutfi si unisce a loro, informando che Zuleia sta riposando e non sta bene. Shermin, con un tono di disapprovazione, sussurra a Betul che Lutfi si è impossessata della casa, insinuando che avrebbero potuto gestire tutto senza di lei. Poi, curiosa, chiede a Betul perché non sia andata in ufficio quel giorno. Betul, con un'espressione grave, risponde che sarebbe stata criticata per non essere vicino alla famiglia di Demir in un momento così critico. Fecheli, nel frattempo, è in azienda con Ficrete e altri, discutendo della ricerca di Demir. Ammette che non hanno ancora trovato tracce e ipotizza che possa essere stato rapito, ma si chiede perché i rapitori non si siano ancora fatti vivi. Mentre discutono, Zuleia arriva, visibilmente provata. Lutfi, con dolcezza, le ricorda di lottare per i suoi bambini. Ma il momento di quiete viene interrotto da Umit, che il rompe urlando, esigendo di sapere dove sia Demir. Zuleia, con fermezza, le chiede di andarsene, ma Umit insiste, accusando Demir di crimini orribili. Zuleia, sconvolta e desasperata, ordina che Umit venga allontanata dalla villa, segnando un altro capitolo di tensione e dolore in questa intricata saga. Nell'aria pesante di sguardi pieni di compassione, Zuleia riceve una chiamata che le gela il sangue, deve recarsi all'obitorio per un'identificazione. Con il cuore in gola, arriva e trova Fecheli ad attenderla. Lui, con un'espressione grave, le confida che avrebbe voluto risparmiarle questo compito, ma non gli è stato permesso. Zuleia, tremante, ammette di non sapere come trovare la forza per affrontare quella stanza. Fecheli, con un abbraccio che cerca di trasmettere coraggio, le sussurra che deve superare questa prova e essere forte per i suoi figli. Quando Zuleia entra nella sala, un uomo solleva lentamente il telo che copre il volto del cadavere. Dopo un attimo che sembra un'eternità, Zuleia esce, in lacrime, e si getta tra le braccia di Fecheli, piangendo di sollievo e dolore, non è Demir. Tornata alla villa, trova le amiche in attesa di notizie. Lutfi si avvicina con cautela, e Zuleia, con gli occhi rossi e gonfi, le conferma che non era Demir. Poi, con passi pesanti, si ritira nella sua camera, dove Gulten la raggiunge. Zuleia confessa di sentirsi sull'orlo della follia per l'angoscia di non sapere cosa sia successo a Demir, ammettendo che preferirebbe sapere che è ferito o in carcere, piuttosto che nell'ignoto. Nel frattempo, Fecheli si incontra con Fikret e Gli comunica che il defunto non è Demir. Condivide poi la preoccupazione che, avendo lui ucciso il fratello di Akan, potrebbero essere tutti in pericolo. Akan è imprevedibile e potrebbe attaccare anche in presenza di donne e bambini. Decidono quindi di unire le forze e restare alla villa per proteggersi tutti insieme. Alla villa, Betul informa Lutfi del suo piano di portare Kerem a stare con i fratelli. Quando arriva alla casa di Fecheli per prendere il bambino, Nazirelle dice che glielo darà subito, dovendo correre urgentemente in ospedale per un parente. Betul, con un cenno di comprensione, lo esorta ad andare, assicurandogli che si prenderà cura del piccolo. Nazirelle si allontana rapidamente, lasciando Betul a esplorare la casa. Con passi curiosi e occhi scrutatori, gira per ogni stanza. Entrando nella camera di Fecheli, si ferma davanti a un quadro di un car, e con un sorriso beffardo, mormora che ora che suo figlio è morto, solo lei e sua madre erediteranno le ricchezze. Ma mentre Betul si perde in questi pensieri cupi, un pericolo inaspettato si insinua nella casa. Un uomo mascherato si infiltra silenziosamente e apre tutti i fornelli e le bombole del gas in cucina. Ignara del pericolo imminente, Betul continua la sua esplorazione, soffermandosi nella camera di Fikret dove nota una foto di Mujgan. Poi, finalmente, va a prendere il piccolo Kerem. Mentre inizia a scendere le scale con il bambino in braccio, un'esplosione improvvisa scuote la casa, e le fiamme iniziano a divampare. Terrificata ma determinata, Betul trova un varco tra le fiamme e riesce a fuggire all'esterno. Appena fuori, incontra Fikret, che le prende il bambino dalle braccia tremanti. Mentre Fikret consola il piccolo in lacrime, Betul osserva, ancora scossa, la casa continuare a bruciare. Poco dopo, alla villa, arriva Fekeli, seguito da Fikret con Betul e il piccolo Kerem. Fikret informa Fekeli che la loro casa sta bruciando e che Betul ha salvato la vita di Kemal. Fekeli, con gratitudine sincera, ringrazia Betul, promettendo di non dimenticare mai il suo coraggio. Davanti alla casa ancora in fiamme, Fekeli e Fikret osservano gli uomini che lottano contro il fuoco. Fikret esprime la sua convinzione che Akan sia dietro l'attacco, sottolineando che nessuno a Cukurova oserebbe compiere un gesto così audace. Fekeli, con un'espressione determinata, assicura che metteranno in sicurezza donne e bambini e poi affronteranno Akan. Ma come trovarlo, se non si mostra mai? Fekeli, con un briciolo di astuzia, suggerisce che Akan emergerà per la rabbia che prova, e in quel momento gli daranno una lezione che non dimenticherà. Con queste anticipazioni, la trama di Terra Amara si prepara a svelare nuove, emozionanti sorprese. Se volete il continuo scrivete qui sotto, sì, voglio il video.